Venerdì 25 marzo, solennità dell'annunciazione, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero si unirà alle ore 17.30 dalla Basilica Paleocristiana di Pestum all'atto di consacrazione voluto da Papa Francesco di Russia e Ucraina all'Immacolato Cuore di Maria. Tutta la Chiesa Universale, nello stesso giorno e alla stessa ora, si unirà quindi in comunione di preghiera per accogliere l'invito della Vergine nelle apparizioni di Fatima, consacrare la Russia al suo cuore immacolato. Mentre continuano infatti gli sforzi diplomatici anche della Santa Sede per porre fine al conflitto, mentre l'Europa tutta sta dando prova di comprensione, compattezza e di solidarietà nelle politiche di accoglienza ai milioni di profughi in fuga dalla guerra, mentre anche a livello locale si moltiplicano le iniziative coordinate dalla Caritas, i cristiani affidano alla preghiera universale l'invocazione della pace. Unitamente al Vescovo che presiderà il momento di preghiera presso la Basilica Paleocristiana di Pestum, sono decine le altre parrocchie della Diocesi che hanno deciso di vivere in contemporanea il momento guidato dal romano pontefice in questo venerdì di quaresima che mostra ancora una volta nella sua attualità la sofferenza del mondo nelle ferite di Cristo e della sua passione che rivive nel pio esercizio della Via Crucis.